Entra in un negozio armato di una pistola scacciacani e con il volto coperto da un passamontagna si fa consegnare l'incasso della giornata, ma all'uscita del negozio viene bloccato dai carabinieri. È successo la scorsa domenica nell'outlet dolciario di San Giuliano Milanese, dove l'unità della stazione di San Donato ha arrestato un uomo di 43 anni italiano pregiudicato e sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora. Dal filmato delle telecamere di sorveglianza divulgato in giornata dai carabinieri si vede bene come l'uomo si avvicina all'entrata del negozio con il cappuccio della felpa bianca già tirato sopra la testa, il volto completamente coperto da un passamontagna nero e nella mano destra la pistola scacciacani. Subito entra dalla porta automatica, il rapinatore sembra guardarsi intorno in attesa di agire, ma appena arriva il commesso lo costringe ad andare dietro al banco e aprire la cassa. Il 43 anni con la mano libera dalla pistola prende da solo tutto l'incasso, circa 500 euro, e poi esce indisturbato per tornare alla sua automobile, ma prima che potesse darsi alla fuga l'uomo viene bloccato dall'intervento di una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Donato. Accertamenti successivi hanno permesso di scoprire come la vettura Fiat 1 utilizzata dall'uomo per commettere la rapina fosse frutto di un furto compiuto il 9 gennaio ai danni di una donna 62enne. Il rapinatore si trova ora recluso presso il carcere di Lodi.